Viste le numerose criticità a Chioggia per la congestione del centro tamponi all'ospedale, con lunghe code e qualche episodio di aggressività, il Comune ha deciso di correre ai ripari e insieme a Ulstre e Autorità Portuale è stato realizzato un nuovo punto drive. Da un'emergenza sanitaria non potevamo correre il rischio che diventasse un'emergenza di ordine pubblico, dovuto ovviamente alle ore di attesa, bambini piccoli, anziani. Adesso con questo punto tamponi i cittadini potranno recarsi qui comodamente a bordo della loro autovettura, rimanere comunque al caldo. Ci sono anche dei vici chimici perché mi era stato lamentato da parte dei cittadini anche la problematica che non potevano andare in bagno lì all'ospedale. Abbiamo fatto squadra e questi sono i risultati. L'ULS ha provveduto a realizzare il drive già attivo in meno di una settimana. Impegnandoci e lavorando in maniera assidua ci siamo riusciti. Abbiamo realizzato questa struttura e siamo in grado adesso di dare 250 tamponi al giorno anche in questo territorio, naturalmente fatti su prenotazioni che riteniamo possano essere la risposta giusta ad un bisogno correttamente sollevato. Il punto tamponi si trova in via Mestri del Lavoro al porto di Chioggia. È un piccolo contributo che diamo ma siamo un soggetto che partecipa al governo del territorio e questo era il modo più immediato per dare il nostro apporto. Quello di Chioggia non è l'unico drive però a cui ha pensato l'ULS 3. Avevamo tre situazioni e quando abbiamo aperto la settimana scorsa alle Zatter abbiamo detto oggi risolviamo questo, la prossima settimana risolviamo Chioggia e oggi dico la prossima settimana, mercoledì prossimo, andremo ad aprire il drive presso Favaro dove in una struttura analoga a questa verranno sistemate delle postazioni proprio per fare i tamponi e creare meno disagio alla popolazione anche di Mestre.